Buongiorno da Rossana Prezioso della redazione di Trend Online e benvenuti alla quotidiano appuntamento con Piazza Affari in 3 minuti, l'incontro di metà seduta per fare il punto sulla situazione. La mattinata si preannunciava già con un avvio in territorio positivo dopo la chiusura di ieri zavorrata dalle perdite legate allo stacco dei dividendi. Un entusiasmo che è stato confermato per tutta la durata della mattinata con un fuzzimib che poco prima delle 12 segnava già più 1,28% a 23.494 punti. Un entusiasmo che è stato incrementato grazie anche alle parole dei vertici della BCE, i quali hanno annunciato un aumento a maggio e giugno degli acquisti di titoli sul mercato secondario all'interno del programma della quantitative easing, una scelta che è stata motivata dalla bassa liquidità presente sul mercato nei mesi estivi di luglio ed agosto. Per quanto riguarda lo spread tra BTP e Bund, alle 12 segnava 120 punti base, praticamente inalterato rispetto all'apertura, così come anche il rendimento sul decennale a 1,79%, in leggero ribasso rispetto all'1,87 delle 9. Per quanto riguarda invece le borse europee, è un entusiasmo crescente che ha visto protagonisti tutti quanti i maggiori indici europei. Il primo, il Fuzzicento di Londra, che sempre intorno a mezzogiorno, segnava già 0,34%. Lo stesso discorso per il DAX e la Borsa di Parigi, che invece hanno registrato rialzi maggiori. Per il primo, un più 1,79%, per la seconda un più 1,84%. Per quanto riguarda i titoli da monitorare a piazza affari, l'elenco è piuttosto interessante, con banca MPS in previsione dell'aumento di capitale che verrà attivato già da lunedì prossimo e del raggruppamento azionario. FCA anche, grazie all'aumento del 9,2% nel mese di aprile sulle immatricolazioni. Interessante sarà controllare anche Telecom, vista l'assemblea degli azionisti prevista per domani, e Salvatore Ferragamo, che è stato decurtato dalla Conviction by List di Goldman Sachs. Per quanto riguarda i temi della giornata, l'agenda macroeconomica italiana non rappresenta appuntamenti di particolare rilievo. Più interessante, perciò, sarà guardare a quella europea, con una serie di report sull'indice dei prezzi al consumo sia per l'Eurozona che per il Regno Unito. Ci sarà inoltre anche l'indice Ziu sulle condizioni economiche tedesche e, per quanto riguarda il fronte statunitense, invece, si registrano i report sulle concessioni edilizie e i permessi di costruzione già rilasciati. Entrambi resi note alle 14.30. Bene, questa era l'ultima notizia, anche se mi resta ancora il tempo per un'ultima raccomandazione, quella di lasciare i vostri messaggi, i vostri suggerimenti e, soprattutto, le vostre critiche. Intanto io vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando all'appuntamento per domani, sempre alla stessa ora. Rossana Prezioso per TrendOnline.com